mi sono fermato vicino a questa pianta di fico un po abbandonata in questa zona vicino ad una ferrovia per farvi notare una cosa che spesso accade la grandissima presenza di piccole chiocciole che salgono sui tronchi ed iniziano ad invadere totalmente la pianta guardate qua quante ce ne sono guardate in questa parte di qua del ramo si accumulano in una maniera spaventosa la domanda che uno subito si pone ma mi saranno mangiando l'intera pianta stanno facendo un danno enorme o il danno è limitato oppure non fanno nulla e comunque mi stanno soffocando la pianta e come posso andarle ad eliminare sinceramente qui sulla pianta del fico notiamo sì che queste piccole chiocciole passeggiano sulle foglie ma non fanno nessun danno non se le stanno assolutamente mangiando invece se noi andiamo a notare le piante sottostanti e qui abbiamo della dieta selvatica eccola quasi loro mangiano questa particolare erba qua dolce ma anche ecco qua la senape quindi si consumano diciamo le foglie delle parti delle erbe selvatiche spontanee sottostante alla pianta sulla pianta quindi ci vanno e ci si posizionano per stare un po al riparo distanti dagli animali indiscreti chiaramente abbiamo visto quel fico là e ma potrebbero anche far danno su piante che preferiscono mangiarsi però se noi andiamo a vedere anche questo albicocco non se lo mangiano qua sotto abbiamo anche un pesco eccolo qua e come vedo non se lo mangiano sembra che un gran danno non lo facciano sulle piante un po piccoline magari possono anche fare un qualche danno stiamo vedendo qua delle foglie mangiucchiate e magari stanno qui soprattutto sui giovani germogli possono dargli un po fastidio e allora facciamo così noi cerchiamo di non farle salire sulle piante seguite questo consiglio sul tronco della pianta mettete un bel tessuto pesante tipo un cotone tipo i jeans e tutto intorno lo legate sopra questo tessuto poi ci fate un bel giro con delle pvc va bene anche un sacchetto di quelli neri che si usano per l'immondizia a livello condominiale sopra questa striscia di nylon che è comunque protetta sotto dal tessuto che noi abbiamo posizionato ci dovremo mettere un qualcosa che è molto viscido per le lumache e che gli dà fastidio per farle salire io normalmente utilizzo il grasso agricolo lo so che non è biologico per chi vuole usare il super biologico magari ci può mettere la crema per le mani magari la nivea in questo semplice modo qua avremo evitato di farli salire queste chiocciole piccoline sono anche simpatiche sulla nostra pianta io ragazzi vi saluto sempre così mi raccomando è sempre in gamba prodotti biologici ci vediamo al prossimo video un abbraccio a tutti da Pier Giorgio ciao ragazzi